Xiaomi Mi Max, io ringrazio subito ibuygo.com che mi ha permesso di fare la recensione di questo dispositivo un dispositivo che appena aperto, wow gigante, utilizzandolo come fai a usare un dispositivo del genere? dopo due giorni? stupendo raga, bellissimo, un dispositivo gigante, inutile quanto bello mi è piaciuto tanto soprattutto nella parte multimediale, entertainment, video, musica, youtube, film l'ho provato veramente sotto ogni aspetto, una batteria immensa, penso che nessun dispositivo al giorno d'oggi sia in grado di fare tutte queste ore di schermo, beh ragazzi non ci resta che andare a vedere e vedere quali sono i suoi aspetti positivi e negativi, a me ha convinto, ha convinto molto ma non riuscirei ad utilizzarlo durante tutte le mie giornate Xiaomi Mi Max parliamo subito di caratteristiche tecniche Android 6.0, MIUI V8 173.1 mm d'altezza 88.3 mm di larghezza per 7,5 mm di spessore per un peso complessivo di 203 grammi il dispositivo, nonostante le dimensioni veramente gigantesche si tiene bene in mano perché ha un peso ben equilibrato nel corpo nonostante poi l'utilizzo a una mano sia abbastanza difficoltoso dato anche dal display da 6.44 pollici risoluzione full hd 1920x1080 342 ppi IPS LCD per quanto riguarda il processore interno è un Qualcomm Snapdragon 650 quad core 1.4 GHz Cortex A53 quad dual core 1.8 GHz Cortex A72 64 bit la GPU e l'adreno 510 3 giga di RAM 32 giga di memoria interna espandibili con micro SD fino a 200 gigabyte esiste anche la versione da 64 e da quanto ho capito faranno anche la versione pro con display 2k e 4 giga di RAM e 128 gigabyte di hard disk per quanto riguarda le fotocamere abbiamo una fotocamera posteriore da 16 megapixel con apertura focale 2.0 e una frontale da 5 megapixel punto forte di questo dispositivo è senza dubbio la batteria 4850 mAh una batteria a dir poco mostruosa andiamo quindi a scoprirlo nella recensione completa ed eccoci qui con Xiaomi Mi Max ringraziamo subito iBuyGo che ci ha permesso di fare la recensione di questo dispositivo vi rimando alla recensione scritta per tutti i dettagli più approfonditi il cui link lo trovate in descrizione oppure all'acquisto tramite il link che trovate sempre in descrizione questo modello come ho già detto è il 32 gigabyte con 3 giga di RAM e devo dire che si è sempre comportato molto molto bene sono partito con questo screenshot per farvi vedere quanta batteria punto di forza di questo dispositivo 10 ore e 33 minuti con ancora il 22% di batteria sarebbe tranquillamente arrivato alle 13-14 ore di display ma arrivata da mezzanotte ho deciso che forse era meglio andare a dormire visto che sto preparando un paio di esami e quindi è giusto essere riposato il giorno dopo per lo studio ma la batteria è sicuramente il motivo principale che può indurre una persona ad acquistare questo dispositivo ovviamente deve anche piacere l'enormità la sua imminenza devastante perché vi metto qua di fianco un Meizu Pro 6 guardate un po' la differenza in video guardandolo così non vi sembrerà tanto grande ma poi preso in mano un Meizu Mate 8 per esempio è piccolo in confronto quindi tenete ben presente le dimensioni è un dispositivo che all'inizio lo direte lo direte perché in tasca è difficile da usare da tenere perché a una mano farete molta fatica e tutte le volte che provate a fare i funamboli rischierete di far ribaltare il telefono per terra e queste sono un po' le cose che fanno un po' storcere il naso inizialmente su questo dispositivo però utilizzandolo e continuando a usarlo giorno dopo giorno ormai è una settimana che lo sto usando ho iniziato ad apprezzarlo veramente tanto perché offre un qualcosa di completamente diverso rispetto a quello che siamo abituati ad avere così come l'iPhone SE mi è piaciuto perché è un ritorno un po' tra virgolette al passato dal punto di vista di portabilità e ce lo si mette in qualsiasi fessura dei nostri vestiti questo invece mi è piaciuto perché offre un'altra cosa completamente differente ossia un telefono travestito da tablet ecco definiamolo così perché è veramente grosso in mano guardate un po' da tenere non è facilissimo arrivare al sensore di sblocco non è facilissimo però nel complesso è un dispositivo che mi è piaciuto veramente tanto andiamo quindi a vedere effettivamente sulla carta come si comporta abbassiamo un po' la luminosità perché mi sembra troppo alta partiamo dal display avete visto luminosità veramente molto alta sotto la luce del sole si vede benissimo e qualitativamente devo dire bello abbiamo un bianco che poi si può anche regolare vediamo se riusciamo a uscire che poi si può anche regolare telegram eccoci qua un nero reso anche qua benissimo mi è piaciuto molto è leggermente specchiato il display vedete quando lo incliniamo purtroppo come tutti gli shomi è leggermente specchiato però abbiamo un nero stupendo un bianco altrettanto bello e guardate il contrasto nero e bianco quanto è bello i colori qua invece una nota positiva e una nota negativa mantengono la giusta naturalezza però devo dire sono a volte leggermente accesi quindi il giallo e il verde per esempio sono troppo accesi rispetto agli altri colori però nel complesso è un display comunque bellissimo che anche date le dimensioni apprezzerete tantissimo soprattutto dal punto di vista gaming dal punto di vista web browsing dal punto di vista video e quindi entertainment multimedialità un dispositivo probabilmente adatto in tutto e per tutto a questo telefono, capsula auricolare si sente veramente bene fortissimo così come i microfoni funzionano benissimo sia in chiamata normale che in vivevoce speaker vivevoce veramente alto potente la qualità non è sicuramente delle migliori è un po' ovattato come audio però comunque si sente veramente molto bene e l'ho provato in macchina in un ambiente rumoroso in autostrada a 120 all'ora e devo dire che è assolutamente uno speaker bello potente andiamo adesso ad aprire spotify e vi faccio sentire una canzone presa dalla nostra playlist top hits spazio high tech ok quindi andiamo a prendere la solita canzone che è tell me alziamo al massimo e poi andiamo a prendere la solita canzone arriva a 106.3 dba che è un risultato veramente altissimo per uno smartphone barra tablet come volete chiamarlo un'ibridazione tra smartphone e tablet questo è il termine giusto però la qualità audio è un po' avattata è un po' un miscuglio tra bassi, medi e alti qualitativamente non mi fa impazzire ecco dal punto di vista di speaker però diciamo va più che bene per ascoltare qualche canzone così in studio mentre studiamo o mentre lavoriamo al computer ovvio non è uno speaker stereo di quelli a prestazioni elevate però nel complesso sicuramente il reparto audio promosso perché per la parte chiamata che è quella che più si utilizza va più che bene veramente ottima per quanto riguarda il browser qui c'è da fare una nota negativa per Xiaomi in generale perché chi mi conosce già lo sa chi non mi conosce lo saprà da adesso io ho sempre adorato Xiaomi soprattutto per un browser fenomenale un browser stupendo browser che però è stato rovinato dal fatto che non si può più andare a introdurre Google come motore di ricerca vedete motore di ricerca abbiamo SM, Baidu, Sgo, Bing e non c'è più Google e la cosa è veramente 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 spiacevole è spiacevole perché questo browser è stupendo nel senso che proviamo a mettere Bing a fare una ricerca cerchiamo Corriere della Sera è spiacevole dicevo perché il browser è fenomenale abbiamo una velocità di caricamento incredibile abbiamo la possibilità di mettere di gestire qualsiasi tipo di impostazione adesso vediamo se mi ricordo come si faceva mettere la modalità desktop che su Xiaomi è sempre stato ok ce l'ho fatto subito questa volta mi sono ricordato quindi facciamo ricaricare in versione desktop il Corriere guardate un po' il caricamento in 4G quanto è rapido veramente bello come browser andiamo a fare un doppio tap qua c'è stato il classico ricaricamento andiamo a fare un doppio tap velocissimo zoom in zoom out anche qua velocissimo e poi vediamo se l'ha mantenuto ah un resizing del testo eccolo eccolo qua un resizing del testo fenomenale anche se su questo display il resizing del testo può anche non servire però avete visto con che rapidità e con che precisione è andato a ritagliarmi il testo nero su bianco un dispositivo che mi piace molto l'ho già detto prima quando parlavo di display un bellissimo pannello full hd che permette di nonostante le dimensioni non scaricare non faticare far faticare troppo la batteria batteria che ribadisco è veramente fenomenale su questo dispositivo per quanto riguarda quindi il browser sicuramente ottimo sicuramente molto rapido peccato che dovrete usare bing come motore di ricerca se vi accontentate altrimenti fate come me piazzate chrome e via che funziona benissimo su questo dispositivo per quanto riguarda la fotocamera qui c'è da dire che la fotocamera è forse uno dei punti deboli di questo Xiaomi Mi Max o meglio scattiamo foto di ottima qualità il punto è scatta molto rapido avete visto la messa a foco è rapida lo scatto è rapido però qualitativamente c'è da dire che non è sicuramente il miglior dispositivo sulla piazza uno Xiaomi Mi 5 per esempio che costa anche molto di più scatta foto ben più belle abbiamo poi la possibilità di ruotare eccoci qua 33 anni male perché lo dice anche lui tra l'altro in realtà vuol dire uomo male ma ne ho compiuti adesso 24 mi dai 33 anni dai non scherziamo dicevo tra le varie impostazioni vabbè qua è la classica di Xiaomi che già conoscete tutti qua la possibilità di andare a gestire le varie impostazioni qua la possibilità di mettere i filtri e poi la possibilità di passare a video o foto fotocamera che ribadisco troverete tutti i sample fotografici nella recensione scritta però si comporta bene perché per il prezzo che costa che è circa 250 euro su ibuygo.com è una fotocamera che ha prestazioni comunque elevate e poi un dispositivo che secondo me se avesse al posto di Xiaomi un altro brand probabilmente costerebbe sui 600 700 euro ecco parliamoci chiaro un dispositivo che è fluidissimo in tutto l'utilizzo e anche nel gaming si comporta veramente molto bene e qui dà il meglio di sé perché abbiamo un display a dir poco immenso per poter dedicarci al gaming ecco gaming che potrete fare tranquillamente durante tutta la giornata prima che si scarichi la batteria quindi per chi è malato di gaming non posso che consigliare questo telefono io ho lasciato per cercare di scaricare la batteria nella prova batteria ho lasciato andare per circa un'ora real racing per portare a zero questa batteria infinita ecco da circa al 30% dopo un'ora e mezza di real racing è scesa al 24% per intenderci quindi capite voi quanto potete giocarci se veramente siete appassionati di real racing caricamento abbastanza lento ma il caricamento lento è probabilmente dato dal chipset e dalla gpu che qualcom si vede che non ottimizza allora fluidità ottima frame di rallentamenti non ne ho visto neanche uno l'impartenza vediamo se sul curvone ci sarà qualche tipo di problema come potete vedere nessun tipo di problema anzi la giocabilità è veramente elevata grazie a questo display ampissimo la qualità del display è veramente ottima dispositivo che per rivadisco la multimedialità i gaming quindi guardare video guardare film è veramente una figata ecco fatemi dire questo termine perché è il termine giusto per per parlare di questo Xiaomi Mi Max io colgo l'occasione per ringraziare ancora ibuygo.com che mi ha permesso di avere abbastanza in tempi rapidi questo Xiaomi Mi Max Xiaomi Mi Max che hanno già disponibile e andando quindi ad acquistarlo in circa 4-5 giorni dal pagamento vi arriverà a casa ovviamente utilizzate spedizione di HL in modo da evitare dazzi doganali e altre rotture come per esempio aspettare mesi di dogane di sdoganamenti e altre cose il dispositivo è localizzato in italiano grazie a More Local 2 che è stato messo con ADB quindi non c'è ancora l'italiano per mettere l'italiano sicuramente bisognerà sbloccare il bootloader però se non siete smanettoni ma volete prenderlo e avere comunque tutte le impostazioni delle applicazioni in italiano e poi vabbè il sistema in inglese potrete tranquillamente comprarlo mettere More Local 2 con ADB trovate un'infinità di guide su Google ed è veramente una sciocchezza farlo nel caso in cui abbiate bisogno di assistenza da questo punto di vista scrivetemi pure nei commenti io cercherò di aiutarvi ovviamente non posso seguire mille persone passo per passo perché non ho il tempo fisico per farlo un dispositivo che mi è piaciuto molto nella sua gigantesca enormità e nella sua scomodità mi è piaciuto veramente tanto mi ha fatto scoprire un altro tipo di utilizzo del telefono ossia quello di eliminare praticamente il tablet da casa per intenderci e fare di un telefono anche quell'utilizzo quindi si può trovare utilità per chi utilizza tanto tanto un tablet magari android perché ovviamente se utilizzato un ipad non ha assolutamente senso comprare un telefono android per sostituire un ipad e come potete vedere qua esa core 3 giga di ram 6.0.1 la mia in realtà qua è la 7.3 stabile ma penso sia la 8 in realtà installata andiamo a controllare che magari sto dicendo una sciocchezza nel caso in cui esca la 8 a breve no ancora la 7 purtroppo ancora la 7 non la 8 non è ancora stata rilasciata evidentemente spero iBuyGomb ha detto che in realtà ecco qua un aggiornamento in diretta comunque mi ha già detto che uscirà la 8 a breve la stabile probabilmente c'è la settimanale 8 comunque la proverò nel caso in cui noto differenze vi farò sapere nella recensione scritta dove darò tutte le informazioni in maniera più approfondita bene ragazzi io direi che vi ho fatto vedere tutto riguardo a questo dispositivo dispositivo che mi è piaciuto veramente tanto dispositivo che ha una batteria in mano un dispositivo che ha una fotocamera decente un bellissimo display una ricezione veramente da riferimento è veramente molto molto potente la ricezione la ho utilizzata insieme a P9 Plus ed era praticamente identica e ho detto tutto bene ragazzi quindi fatemi pure tutte le domande che volete nei commenti io per questo Xiaomi Mi Max ho finito ringrazio ancora iBuyGo.com ciao a tutti ragazzi da Daniele per Spazio Hightech